Un fronte unico per il rilancio economico del centro storico che vede insieme la Confcommercio dell'Aquila e il movimento dei commercianti del centro storico. Decine di piccoli imprenditori che sin dai primi mesi dopo il sisma si sono rimboccati le mani che hanno per primi cercato di rivivere le vie del centro spopolate, danneggiate e vuote. Ma le difficoltà sono ancora tante a partire da una ricostruzione che spesso impatta con la vita quotidiana, con le attività e la mancanza di parcheggi fondamentali per agevolare le persone che vogliono fare spesa in centro città. Un matrimonio, quello tra il movimento commercianti del centro storico e la Confcommercio, siglato in particolare dal direttore regionale di Confcommercio Celso Cioni e il referente del movimento Ugo Mastropietro, storico commerciante aquilano, con l'iscrizione di 170 esercenti alla Confcommercio dell'Aquila. La prima questione che abbiamo posto proprio una settimana fa presso la sede nazionale di Confcommercio, perché il presidente Sangalli ha dedicato l'ultimo consiglio nazionale al decennale del terremoto dell'Aquila. In quella sede noi abbiamo chiesto per superare tutti gli intoppi burocratici, perché c'è un santo protettore della pubblica amministrazione che si chiama San Ceppato. E quindi si inceppano le ricostruzioni pubbliche, non ci sono gli attrattori pubblici e allora noi dobbiamo lavorare su questo piano e abbiamo fatto una proposta che il presidente Sangalli ha raccolta. Qual è? Di nominare commissari in tutti i crateri del centro Italia per aggiuevolare e fare più rapidamente le procedure di appalto, le gare, tutto quello che è necessario, per restituire gli attrattori pubblici che sono fondamentali per gli esercizi commerciali, perché se non c'è, come quando non avevamo il terremoto, se non c'è la Camera di Commercio, l'ufficio Anagrafe, l'ufficio della provincia, l'ufficio della regione, le persone non frequentano il centro ed è il presupposto necessario. La proposta di Sangalli è stata accolta dal governo? La proposta era mia, il presidente Sangalli l'ha raccolta, il governo ha dichiarato su una rete nazionale il vicepremiere Salvini che ha raccolto questa proposta, per cui verranno con il prossimo decreto sblocca cantieri, verranno nominati finalmente i commissari straordinari. Questa è una svolta per la nostra città, ma per tutte le aree del cratere, perché si velocizzano le procedure e si restituisce la precondizione per fare il commercio. Presidente, oggi c'è questo incontro in cui parteciperanno anche i rappresentanti, i negozianti, i commercianti, parteciperà il movimento dei negozianti del centro storico, c'è l'amministrazione comunale. Che cosa porrete sul tavolo? Qual è la prima pietra per poter sbloccare questa situazione? La prima è che abbiamo studiato matematica e abbiamo cercato di smetterla di fare le divisioni e abbiamo ricominciato a fare le addizioni in questa città. Quindi il movimento di oltre 100 operatori del centro storico che si è realizzato negli ultimi mesi entra nel sistema ConfuCommercio e noi diamo il benvenuto, perché questo è un momento molto importante per la città, perché ricominciamo a fare le addizioni. Quindi abbiamo studiato bene matematica, abbiamo capito che le divisioni che abbiamo fatto negli ultimi anni non hanno portato risultati, ripartiamo dalle addizioni. Quindi che vuol dire? Mettere insieme le forze, aumentare il potere contrattuale, rappresentare le problematiche concrete, perché loro stanno tutti i giorni in questo luogo, nel centro storico, conoscono benissimo le problematiche e quindi ci possono aiutare anche a migliorare la nostra proposta al comune. Abbiamo trovato un'intesa intanto tra persone, tra donne e uomini, che si sono regalati questo bel risultato, con le mogli, i figli, perché siamo prima persone, poi siamo commercianti, siamo cittadini, ma dobbiamo imparare in questa città a unire le forze. Presidente, qual è la situazione del commercio all'Aquila, dato che prima del terremoto c'erano mille attività commerciali? Gli le posso anche mostrare, questo è uno studio fatto dall'Ufficio Studi di Confcommercio, la quarta edizione, è stata presentata qualche settimana fa, e l'Aquila è in testa, purtroppo, ai centri storici con il potenziale declino. Vedete, l'Aquila è prima in classifica ed ha un indice di declino del 42,9%, contro una media nazionale del 26, quindi quasi doppio. Questo dato esprime la reale situazione. Questa è la situazione, c'è molto da fare, da fare insieme, insieme anche con l'amministrazione, con tutte le forze politiche che stanno dedicando un po' più d'attenzione, per fortuna, negli ultimi tempi. Non è mai troppo tardi, si poteva fare pure prima, ma non è mai troppo tardi. Noi abbiamo notizie che nello stretto centro storico sono un po' più di un centinaio, diciamo che nella zona più ampia del centro storico arriviamo anche a un paio di cento attività, che comunque sono poche rispetto a quello che era il punto di partenza. Noi vogliamo riportarle le mille che c'erano prima, e anzi, le vogliamo riportare anche duemila. Lavoreremo per questo. Noi avevamo 30-40 mila persone che ogni giorno calpestavano queste strade. Se non torna questo, tutti gli altri discorsi, i sostegni, i bandi, sono chiacchiere che non portano nessun risultato. Diciamo che rappresentiamo qualcosa che sta nascendo, sta costruendo la nuova L'Aquila, che è più bella, più forte di quella che era prima. Quindi stiamo lavorando affinché questa città possa rappresentare un tramponino di lancio per tante nuove opportunità, per tanti giovani che iniziano un nuovo lavoro. Quindi cerchiamo di ridare alla popolazione aquilana ciò che gli è stato tolto da un evento catastrofico. Dobbiamo essere tutti uniti, questo segno oggi che, come diceva Celso Cioni, per una volta significa che si inizia a fare più, quindi un segno più alla Confcommercio. Rinnoviamo e diamo gioventù a un movimento che ha fatto comunque la storia dei commercianti. Oggi, ripeto, questo segno più significa che comunque entriamo, io mi sento di rientrare, almeno tutti questi commercianti che decidono di fare questa cosa, rientriamo dentro casa nostra perché la Confcommercio è la nostra casa. Quindi la ripopoliamo e andiamo a prenderci delle situazioni per poter portare rinnovamento, gioventù all'interno di un'associazione che significa tanto per noi. Che cosa bisogna fare, secondo lei, anche dall'alto della sua esperienza di commerciante, per cercare di risollevare il destino socio-economico dell'Aquila? Allora, l'esperienza di noi commercianti all'interno delle nostre attività è diversa da ognuno, quindi ogni commerciante ha da raccontare la sua storia, ha da raccontare le sue vicissitudini e i suoi successi. Per cui, per quanto mi riguarda, l'Aquila ha rappresentato per me un nuovo punto di partenza, mi ha ringiovanito, una nuova sfida, quindi nella mia attività personale, comunque è un'attività che comunque ad oggi, posso dire che va, nonostante le problematiche, la città comunque è stata apprezzata e amata dai cittadini aquilani, per cui è un risultato buono. Parecchi colleghi del centro mi dicono la stessa cosa, quindi l'Aquila ad oggi sta cambiando, anche prima era una città chiusa, una città che la domenica non aveva nessun negozio aperto, oggi non è così, ci stiamo organizzando per fare un centro commerciale all'aperto, a Pasqua addirittura saranno tanti i negozi aperti alla città dell'Aquila. Quindi sono tutte cose nuove che vanno a costruire quella che sarà la nuova l'Aquila, votata al commercio, votata al turismo, per far vedere le nostre bellezze, per dare un lustro alla nostra storia. Però sono tanti commercianti che lamentano la difficoltà di fare affari in questo contesto. Le difficoltà sono dovute comunque ai lavori, perché comunque ci abbiamo tante richieste da portare avanti, è ovvio che oggi ci stiamo unendo e stiamo cercando di fare una forza per avere più potere contrattuale, per avere anche modo di far valere le nostre idee. E quindi i parcheggi che saranno, vorremmo sapere dove saranno e come saranno, ma anche fare da subito un qualcosa che possa dare a tutta la città dei punti di riferimento, dove parcheggiare, come arrivare in centro. E quindi anche fare dei sacrifici, come già dichiarato ai quotidiani di ieri, che i commercianti fanno il primo passo, che è quello che vogliamo togliere noi le macchine dal centro. Quindi vogliamo dare spazio ai nostri clienti, che potranno raggiungere più facilmente le nostre attività. Con questo chiediamo anche che le macchine degli operai o di chi lavora alla ricostruzione facciano la stessa cosa nostra. Quindi liberare il centro, dare la possibilità a chi viene a fare una passeggiata di non respirare i gas, quindi non una ZTL o una zona pedonale, che ad oggi purtroppo penalizzerebbe completamente le attività, in quanto i residenti sono ancora pochi. Però dare anche spazio a tutti i residenti che ci sono e quindi riuscire a fare una passeggiata con mille macchine in meno in questa città è una cosa che comunque aiuta. Angelo Liberati, dopo dieci anni dal terremoto bisogna ancora fare molto per il rilancio socio-economico della città? Io direi tantissimo, perché io dico i miei colleghi, amici e non li chiamo più commercianti, imprenditori, sono i pionieri, sono i nuovi pionieri di questa città e purtroppo ogni giorno debbono combattere quanto per i cantieri, quanto per sottoservizi, sempre dei cantieri, quindi ricostruzione, sottoservizi, è un far west di traffico che non si sa quali sono i sensi da seguire anche per un normale cittadino e si capisce bene, già chi ha fatto il sacrificio di tornare in città per dare un servizio a questa città, perché sappiamo una cosa che è da sempre che esiste il mondo, non può esistere una città senza il commercio, non esiste commercio senza una città, quindi manca quell'indotto da dieci anni che c'era prima, dalle manifestazioni, da quelle che sono tutte quelle piccole cose che si possono fare in una città disastrata come la nostra. Il fatto di tornare al centro è da elogiare coloro che hanno avuto questo coraggio, però per quanto riguarda le nostre amministrazioni, che sia quella comunale o regionale, quando meno dovrebbero avere o creare dell'indotto. L'indotto è quello che può dare l'ossigeno alle attività che si sono riposizionate al centro. Secondo voi, secondo la vostra proposta, come si può creare questo indotto? Da che parte bisogna cominciare? Sicuramente è il ritorno delle banche, è il ritorno degli uffici importanti, perché se noi ha riaperto l'Inps regionale e già lì ci sono i dipendenti, dipendenti che se vengono al centro purtroppo trovano adesso come adesso otto negozi, otto attività su dieci, su 87-88 riaperte che sono somministrazione, quindi non potrebbero fermarsi il classico negozietto di alimentari o attività di vicinato che aiutano e potrebbero fare attrazione anche per le altre attività, questo non esiste. Però questa è una volontà del commerciante, cioè devono essere i commercianti, i futuri piccoli imprenditori, a scegliere il tema dei loro negozi, delle loro attività? Sì, diciamo che se si sono aperte queste attività di somministrazione è dato dal fatto che essendo anche se con meno iscritti ma una città universitaria, loro già il giovedì o il sabato portano a casa l'ingasso che riesce a farli sopravvivere. Certo, chi vuole cambiare attività o riportare un'attività che aveva originalmente prima del terremoto deve pensarci, non una volta ma quattro volte perché dice io vado lì, immesto, pure con fare centro però se poi mi manca l'ossigeno io non riesco ad andare avanti.